Effettivamente il punto oggi a noi va bene per quello che abbiamo fatto. Loro ci hanno aggrediti in tutte le zone del campo ed è normale perché loro navigano in una condizione di classifica un po' precaria e quindi per cercare di uscire da questa situazione ci hanno messo in grande difficoltà. Noi in qualche circostanza abbiamo subito qualcosa anche se avevo la sensazione che potevamo fargli male in ogni momento della partita. Forse quello è stato l'unico cruccio che in qualche situazione un po' più determinati potevamo fargli male. I tuoi ex compagni comunque ti aspettavi di trovarli così determinati. Comunque da quando c'è Breda sei partite senza sconfitte, due vittorie e quattro pareggi. Sapevo della loro determinazione. So che si sono allenati bene. Fino a una settimana fa stavo lì quindi so che comunque ce la mettevano tutta per cercare di tirarsi fuori da questa situazione un po' precaria. Secondo me hanno fatto una buona partita. Per noi il punto adesso va bene anche se comunque... Punto guadagnato. Punto guadagnato anche se comunque per fare un salto di qualità mentale dobbiamo metterci quel qualcosa in più che forse oggi non abbiamo messo. Alessandro con tutto il rispetto per il Livorno che con Breda sicuramente sta facendo meglio rispetto alla prima parte di campionato però da una squadra che è nelle zone alte della classifica contro l'ultima della classe ci si aspettava ben altra prova. L'ho appena detto. Loro ci hanno messo che qualcosa in più, hanno vinto qualche duello, qualche contrasto in più e nella determinazione... Perché è mancata la determinazione nel Pescara che invece ha avuto il Livorno oggi? Ma adesso io sono arrivato da poco quindi adesso non so nel dettaglio che cosa ci manca a questa squadra. So che comunque per vincere le partite di questo genere ci vuole qualcosa in più della determinazione, la voglia, il carattere. Giocare anche un tantino sporco, non essere sempre puliti come di solito il Pescara è stato fino alla partita scorsa. Quindi il giorno di ritorno è molto molto difficile e dobbiamo mettere oltre le qualità tecniche anche le qualità temperamentali. Sicuramente domenica contro il Brescia in uno dei tre posticipi all'Adrià di Covernacchia ci vorrà un altro Pescara? Ma sicuramente sarà una partita d'alta quota e quindi per affrontare queste partite ci vuole grande voglia e determinazione. E' una squadra in forma il Brescia e quindi adesso pensiamo a questa partita che è appena conclusa. Vediamo gli errori dove sono stati fatti e speriamo di non commettere più determinati errori. In una partita deludente come quella di oggi ci sono però anche delle cose positive, soprattutto la prova della difesa. Non aver subito gol così come era accaduto con la Cremonese, questo è importante, la tenuta del settore arretrato. Ma questo è fondamentale perché quando la partita, sono frasi fatte, quando la partita non la puoi vincere non la devi perdere. E questo secondo me è un buon punto, la difesa ha fatto un'ottima partita e prendiamoci questa situazione della difesa come un buon punto di partenza. Pillon lo aveva detto in conferenza stampa venerdì, poi voi siete partiti un giorno prima in ritiro. Insomma, temo molto il Livorno e poi il campo ha dato ragione al tecnico. Sì, perché ripeto, il Livorno veniva da prestazioni importanti. Il Livorno nell'ultimo periodo ha pareggiato con il Verona, ha pareggiato a Palermo, ha vinto delle partite, quindi ha messo in difficoltà tutte. E quindi anche noi siamo incappati in queste difficoltà. Grazie.